Ciclo Team Tanagro saluterà il 2023 con l'abituale cena di fine anno in programma per mercoledì sera a San Rufo. Il tradizionale appuntamento natalizio organizzato dall'Associazione di San Pietro al Tanagro non sarà soltanto l'occasione per scambiarsi auguri illegali, ci sono due novità e ci sarà la presentazione di un libro. La società del presidente Arsenio Parrella svelerà la divisa che farà bella mostra di sé nelle gare amatoriali del prossimo anno alle quali il ciclo Team Tanagro si presenterà con una nuova atleta, la materana Giussi Criscuolo, salita sul podio nell'ultima edizione della Gran Fondo del Tanagro. Una ciclista di esperienza che ha ottenuto prestigiosi risultati nel circuito delle corse amatoriali per raggiungere un obiettivo molto ambizioso, ampliare la base delle praticanti sia nel Vallo di Diano sia negli altri territori di confine tra Campania e Basilicata. Nell'occasione sarà anche presentato il libro del giornalista Alessandro Musca, Salerno e il Giro, una meravigliosa corsa umana. Un libro che non vuole essere solo una ricostruzione analitica di ciò che è accaduto quando il Giro d'Italia ha toccato Salerno, vuole tirare fuori dal cassetto tutti retroscena di una passione, quella per il ciclismo, che in questa città non ha mai smesso di esercitare il suo fascino dai tempi eroici. Alle soglie del terzo millennio l'autore ha riannodato il filo rosa che lega il nostro capoluogo di provincia alla festa di maggio.